Buongiorno da TG1 Economia. Piccole e medie imprese in piazza a martedì prossimo 18 febbraio. Obiettivo chiedere al governo un cambio di passo per far sopravvivere il tessuto produttivo italiano. I temi più dolenti restano credito, pagamenti della pubblica amministrazione e peso della burocrazia. Sentiamo Alessandra Azzolini. Una manifestazione per dire che senza imprese non c'è Italia. Una manifestazione per riprendersi il futuro. Così Rete Imprese Italia dà appuntamento il 18 febbraio a Roma a migliaia di imprenditori provenienti da tutta la penisola. Vogliamo fare un'azione forte, non le solite assemblee, i convegni, ma dire a tutti, dal governo, al Parlamento, agli italiani, che noi siamo in forte difficoltà e con noi entra in difficoltà l'Italia, il lavoro. Rete Imprese Italia, che rappresenta oltre 4 milioni di piccole e medie aziende e che dà lavoro ad oltre 24 milioni di addetti, dice che così non si può andare avanti. Nel 2013 hanno chiuse battenti oltre 1000 imprese al giorno. Il reddito individuale da lavoro dipendente è diminuito di circa il 10% in due anni. La pressione fiscale ha toccato livelli record e la tassazione sui profitti delle aziende raggiunge il 66%, 20 punti percentuali in più rispetto alla media europea. E invece i costi della burocrazia diventano sempre più gravi. Oltre 30 miliardi l'anno, pari a due punti di PIL, costi che potrebbero diminuire di quasi 9 miliardi se venissero attuati i provvedimenti di semplificazione già varati negli ultimi 5 anni. Dobbiamo affrontare la questione della burocrazia. È opprimente e le imprese non ce la fanno più. La seconda cosa è il credito. Con il problema dei mancati pagamenti da parte di tutte le imprese, oggi non avere credito vuol dire far crollare le aziende. La terza una pressione fiscale che ormai è insopportabile.